Dopo la frenata di martedì una nuova impennata. I nuovi casi registrati in Toscana sono 306 su 11.451 test, di cui 7.089 tamponi molecolari e 4.362 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 2,67%, sale al 5,5 sulle prime diagnosi. Dati in crescita rispetto al bollettino del giorno precedente, dove i casi erano stati 169, con un tasso di positivi sui nuovi soggetti testati di poco superiore al 3%. Nessuna novità sulla ripartizione dei positivi sulle fasce d'età. Due terzi dei casi arrivano da ragazzi fino a 34 anni. A spingere il contagio, l'ennesima conferma arriva da Alzi. È la variante Delta, che sta diventando dominante con una trasmissibilità superiore del 40-60% rispetto alla mutazione britannica. Più brevi anche i tempi di incubazione. E si vedono già, sempre secondo Ars, i primi effetti dei festeggiamenti per il trionfo dell'Italia agli europei. È una crescita impetuosa in dieci giorni. Siamo passati da un tasso di incidenza settimanale di nuovi positivi di 11 su 100.000 abitanti a 39, spiega al direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Centro, Renzo Berti. Tuttavia, c'è una grande diversità rispetto allo scorso autunno. I vaccini, ha concluso Berti. E i vaccinati che se infettano non manifestano sintomi.